Benvenuto Marco, benvenuta Maura, come state? Bene. Maura Gancitano, Marco Maizano, il nostro collega collaboratore. Ho ascoltato un giorno il Ma Perché, la puntata del Ma Perché di Marco. Si trattava di questo tema spinoso, su cui effettivamente io non mi ero mai soffermato perché l'avevo sempre dato un po' per scontato come cosa buona e giusta, cioè il merito, la meritocrazia. E ho sentito il tuo intervento e ho detto, cacchio, è un tema interessante di cui sarebbe interessante parlarne. Vuoi farci un cappello introduttivo tu su dove la meritocrazia presenta, come dicevamo prima, un po' di zone d'ombra, qualcosa che non va? Beh, allora, diciamo che la ragione per cui non ci abbiamo pensato per tantissimo tempo è che effettivamente noi millennial, diciamo, cioè le persone cresciute negli ultimi 40 anni sono cresciute con l'idea di doversi meritare tutto e che quindi il merito non fosse confutabile, fosse oggettivo. In realtà quello che tanti esperti dicono in questi anni è che non è oggettivo, è arbitrario, nel senso che i criteri per selezionare le persone in ambito scolastico, in ambito lavorativo, vengono scelti, non sono tutti criteri possibili e molto spesso non tengono conto delle diversità umane, della varietà, di tempi diversi, per esempio per raggiungere certi obiettivi. E quindi in realtà il merito può essere un problema, cioè in realtà può alimentare le diseguaglianze. C'è un libro uscito nel 1958 di Michael Young che è un libro distopico ma è stato preso come un saggio. Sì, l'ho sentito nel tuo intervento. L'avvento della meritocrazia è in realtà un libro distopico in cui lui cerca di descrivere come diventerebbe una società basata sul merito ed è una società terribile. E però quel libro è stato preso sul serio, quindi in realtà ci si è convinti che in effetti il merito fosse il criterio sulla base del quale giudicare le persone. Questo ha creato nel corso del tempo una società in cui, e anche la ragione per cui forse tanti hanno commentato con l'episodio del podcast, le persone si sentono costantemente in gara. Cioè effettivamente dobbiamo competere, dobbiamo dimostrare di meritarci qualsiasi cosa e abbiamo paura di essere tagliati fuori. Quindi sono io che mi devo adeguare a dei criteri che qualcuno ha stabilito, ma in realtà io come essere umano posso aver bisogno di tempo, posso avere dei criteri che invece non vengono tenuti in considerazione. In ambito lavorativo, la capacità relazionale, le capacità sociali, la creatività, vengono valutati davvero? O vengono valutati solo alcuni criteri, alcuni titoli, alcuni punteggi e non altri? È un grosso problema. Questo non significa che bisogna eliminare qualunque tipo di valutazione, cioè se devi assumere qualcuno devi capire come assumerlo, se devi dare dei posti per esempio devi capire come farlo, quindi dei criteri ci vogliono. Però non si può pensare che siano criteri oggettivi, cioè noi li scegliamo. Sì, no, guarda, la prima cosa che hai detto, la parte su cui volevo farti subito una domanda, era il criterio dell'oggettività del merito, no? Ma veramente noi siamo sempre stati convinti che fosse oggettivo? Io per esempio no, cioè come dicevi tu sono cresciuto sapendo che ti dovevi meritare le cose, però non mi sono mai illuso che il merito fosse un qualcosa di oggettivo. Cioè io ho sempre contestato le valutazioni a scuola, le prime valutazioni sul lavoro, ma tutt'oggi io vengo valutato costantemente e non sempre sono d'accordo con quelle cose, però lo accetti, perché sai che fai parte di una società che sta dentro alcuni binari, forse il binario non è il termine giusto, però io non sono così convinto che il merito sia oggettivo. Cioè uno lo mette in conto che può anche sbagliare, però non so, si può accettare questa cosa o non va accettata? No, il merito non può essere oggettivo perché l'essere umano poi è fatto anche di emotività, nel senso che una persona la scelgo e la faccio venire a lavorare con me anche per dei motivi che esulano delle sue competenze specifiche, non sono una macchina che sceglie e quindi l'oggettività in questo senso anche secondo me non è oggettiva. Io però pongo sempre l'attenzione sul punto di partenza, cioè il merito è una cosa straordinaria, però dipende da dove partiamo, perché se partiamo da blocchi diversi e tu parti da 100 metri avanti a me, perché sei nato in una città dove il network di persone che avevi a disposizione ad un certo tipo hai avuto un'istruzione migliore della mia, che magari sono nato invece in un contesto diverso dove invece il disagio, la criminalità, se pensiamo ad alcune zone del sud Italia, beh lì insomma fa la differenza. Quindi il ragazzo che non ci riesce, non ci riesce per demerito o perché non ci riesce perché è cresciuto in pediferia, in una città povera, in un contesto sociale diverso dal mio. Cioè è la giustizia sociale che crea il merito e non il contrario. Sì, ma l'obiettivo finale qual è? Cioè l'obiettivo finale è fare in modo che non esista questa disuguaglianza o è una specie di carezza che si fa a chi magari non ce la si fa dicendo non è colpa tua, ci possono essere delle motivazioni che esulano da te perché tu non sei riuscito ad arrivare a ottenere un risultato. Secondo me l'obiettivo è diminuire le disuguaglianze sociali che sono l'origine del problema e del perché stiamo parlando qui di merito. Credo che quello sia il primo vero passo che una società deve fare. Poi possiamo parlare del metodo, cioè il metodo meritocratico. Io lo trovo sano, è giusto scegliere una persona perché è più capace di un'altra a fare un determinato lavoro. È tutto sano. È il concetto di merito utilizzato come lo utilizziamo noi che secondo me funziona poco nella nostra società. Maura? Diciamo che noi ci siamo... Cioè in qualche modo si è creata l'idea che intanto fosse oggettivo quindi non si sbaglia e non si mettono in dubbio anche i criteri molto spesso e poi che in qualche modo raccontare le proprie disuguaglianze o farsi aiutare, per esempio a livello economico. Quindi una persona nasce povera, ha bisogno di aiuti economici. Ci si vergogna quasi oggi. Oggi ci si vergogna in Italia a parlare di povertà. Ma in realtà tantissime persone avrebbero bisogno di aiuti economici. Sembra in qualche modo sintomo di debolezza. E quindi molto spesso, per esempio persone meritevoli, questo succede alle persone povere o alle seconde generazioni, devono impegnarsi il doppio e il triplo per riuscire a ottenere qualcosa. Devono dimostrare di essere eccezionali. Accade anche un'altra cosa. Cioè persone in realtà nate super privilegiate che anche loro rischiano di non essere selezionate. Questo accade molto negli Stati Uniti. C'è un filosofo che si chiama Michael Sandel che ne ha parlato molto rispetto al test SAT, che è il test attitudinale attraverso il quale un po' vieni selezionato, puoi fare delle università e non altre. Ecco, ci sono stati un sacco di scandali negli Stati Uniti. Tipo attori e attrici di Hollywood che pagavano per riuscire a manipolare i risultati dei propri figli e che rischiavano di non andare nelle università che invece erano quelle più prestigiose. Quindi il problema è tutto quello che si crea. Cioè si creano intanto diseguaglianze. Quindi se io nasco in un posto diverso dalle grandi città rischio proprio di non avere accesso a certe possibilità. E poi si creano un sacco di problemi di salute mentale. Cioè anche questo è importante dirlo. Problemi psicologici, stress. C'è un livello di performatività costante che viene chiesta già da quando si è molto piccoli che non c'è mai stata. Quindi chiediamo di dimostrare alle persone di essere eccezionali anziché vedere anche la varietà delle persone. Il fatto che ci sono delle capacità e dei talenti che magari quei criteri non riescono a soddisfarli ma che in realtà sarebbero da valorizzare e da coltivare. Invece se quei criteri non li soddisfano quelle persone vengono escluse. Cioè immagina quante persone in Italia hanno delle cose interessantissime che potrebbero fare, che potrebbero dire e non lo fanno perché sembra che non si meritino di avere una voce. Stiamo perdendo tantissimo secondo me. Sì, mi rimane sempre da capire qual è l'alternativa. Una buona alternativa è parlarne e dirselo. Credo che sia un primo passo verso una soluzione. Non è retorica, è che fino ad oggi non si è fatto. Cioè fino ad oggi si è sempre pensato che una persona sia lì o per merito perché è raccomandato. Cioè se ci pensi è così. Tu hai sempre creduto quella persona è lì o perché è molto capace o perché è un raccomandato. Sì, io temo di non vederci però due cose sbagliate. Ne vedo solo una sbagliata. Quello che è lì per merito per me è giusto che poi abbia avuto una fortuna magari diversa dagli altri. Ma è tutto qua, eh. Io lo metto però, cioè nel senso poi diventa tutto relativo altrimenti perché rimane anche questo un problema da mondo privilegiato. Però sai qual è il discorso? È che chi, come dici tu giustamente, chi è lì per merito rischia di essere sempre la stessa persona. Cioè chi ricopre i ruoli di potere in Italia. Sì, non sono completamente d'accordo. Quante persone conosci che sono arrivate dal nulla. Io? Vabbè sì, ma ora tu non lo so. No, poi ci sono anche tanti ambiti. Lo sport, per esempio, è un ambito dove il ribaltamento dell'origine di provenienza è maggiore. E dipende però anche dove sei nato. Io sono nata in una provincia siciliana e lì ancora di più devi dimostrare di essere eccezionale per poter accedere, anche solo per poterti allenare con persone e in luoghi che siano competitivi, diciamo. Però c'è un'altra questione. Ti metto un attimo in pausa perché dobbiamo mettere delle canzoni. Maurizio mi sta guardando malissimo. Mettiamo una canzone e poi ripartiamo esattamente da dove ti sei interrotta tu. Scusami, Maura, ritorniamo da te da dove eravamo rimasti. Allora, torniamo. Ho visto che eri rapita anche dall'argomento sorteggi. Ma sì, tantissimo. Sì, sì, sì. No, allora, secondo me c'è un'altra questione. La questione è legata al Se vuoi puoi. Sì. Che diventa una retorica. Cioè, se ti impegni ce la fai. Quindi, se non ce la fai, perché non ti sei impegnato abbastanza? Sì, anche io sono completamente d'accordo con te su questa cosa. È la retorica del Se vuoi puoi. ce l'ha fatta, quindi ce la possono fare tutti. E non è vero. Sì, certo. Cioè, ce la fanno poche persone. Alcune di queste hanno dei talenti eccezionali, altre no. Però comunque c'è una grandissima selezione. Il problema è che la maggior parte delle persone non vuole competere. Cioè, e però viviamo in una società che ti dice che devi competere per forza. Se fai il freelance, se fai un lavoro normale. Cioè, ormai la competizione è costante. E quindi, secondo me, questa retorica dell'appunto se ti impegni ce la fai. Certo. È qualcosa che dobbiamo abbandonare. Questo significa che ci sono delle persone che hanno voglia di lavorare 365 giorni all'anno sulla stessa cosa tantissimo. E perché da quello traggono soddisfazione. Ma tantissime altre persone non vogliono. E questo come va a braccetto però con tutto ciò che desideriamo? Perché mi sembra che anche le persone che non hanno troppa voglia di competere e di lavorare desiderino le stesse cose di chi invece lavora 365 giorni all'anno. Ed è lì che io faccio fatica. Maurizio, noi lo prendiamo sempre in giro perché lavora tanto, no? Maurizio lavora tanto, probabilmente perché gli piace, ma anche per ambire ad avere tanto. Chi ha meno voglia di lavorare di Maurizio però desidera le stesse cose di Maurizio? Cioè, come si fanno a incastrare queste due cose? O abbassiamo il desiderio e le persone dicono io ho voglia di fare poco per la mia salute mentale, ho voglia di fare il giusto, però desidero il giusto, mi accontento. Invece mi sembra che il desiderio delle cose cresca in tutti sempre. Ma dipende molto di che desiderio parli. Tanti desideri non sono nostri, sono desideri eterodiretti. Ah, certo. Se posso usare un termine filosofo. Cioè, in qualche modo sono delle cose... Cioè, viviamo in una società che ti spinge a desiderare tutto. Però sì, la frittata poi è fatta. Allora, quindi secondo me ci sono due aspetti. Uno è quello personale, cioè domandarsi cosa si desidera davvero. Cioè, alla fine, come dice Malcolm Gladwell, ci vogliono 10.000 ore, secondo lui, per diventare bravi in qualcosa. Quindi è chiaro che i Beatles hanno suonato per anni, otto ore al giorno, e sono diventati bravissimi. Se tu non vuoi suonare così tanto, e suoni una volta ogni tanto, non puoi pretendere di diventare eccezionale. Certo. A meno che, appunto, tu non sia veramente un genio, ma di solito se sei un genio sei anche abbastanza ossessionato da quello che fai. E però, dall'altro, c'è proprio questa... Cioè, noi spingiamo tutti costantemente a un impegno e a dover desiderare delle cose che spesso non desideriamo. Quindi, secondo me, c'è un aspetto individuale. Cosa desideri davvero? E oggi tante persone se lo stanno chiedendo. In questi ultimi tre anni, tantissimi hanno iniziato a lavorare troppo o a dover lavorare troppo. Tanti altri hanno fatto delle scelte che prima non avrebbero fatto, secondo me. Dall'altro c'è una questione, invece, sociale. Cioè, tante persone si possono aiutare a livello collettivo e possono non vergognarsi di aver bisogno d'aiuto. Invece, spesso, la retorica del se ti impegni ce la fai, se vuoi puoi, ti dice che tu devi vergognarti a chiedere aiuto, ad aver bisogno di qualcosa. È però un grosso problema. Se, per esempio, hai delle caratteristiche che non ti fanno rientrare in certi criteri. Quindi, secondo me, dobbiamo abbandonare l'idea che aver bisogno d'aiuto e vivere una condizione di diseguaglianza sia un problema o una vergogna, perché molto spesso sono cose che non decidiamo. Dall'altro domandiamoci cosa desideriamo davvero. Cioè, cos'è che vogliamo? Sì, dopo la pubblicità proviamo a capire se, secondo voi, l'essere umano ha la lucidità mentale di riuscire in questo mondo a capire che cosa desidera davvero o se semplicemente segue una carota che gli è stata messa davanti al naso all'infinito. Un po' di pubblicità e ritorniamo su Radio DJ. Bentornati, 12.36, siamo sempre su Radio DJ. Marco Maesano e Maura Gancitano sono in studio con noi. Stiamo parlando di merito, del concetto di merito che inizia a mostrare qualche crepa di questo mondo del lavoro che ci spinge ad essere sempre più competitivi e, in alcuni casi, provoca anche dei disagi. Una domanda che volevo farti è secondo voi, sul lungo periodo, se si sposasse questa nuova filosofia di vita diciamo così in cui uno fa finché ne ha voglia finché riesce, finché c'è sul lungo periodo che effetti potrebbe avere sulla società la mancanza di competizione? No, ma allora io penso poi non lo so, Mauro, come la pensi credo che la competizione sia una cosa sana io personalmente sono una persona competitiva mi piace mettermi lì e provare a essere migliore di qualcun altro nella cosa che faccio magari anche una fesseria deve essere per forza il lavoro, eccetera però sul concetto invece del se vuoi puoi trovo che sia veramente tossico cioè io credo che tu vuoi quello che puoi ti chiederai di non dire mai più questa parola tossico, basta di sentire cose tossiche non è possibile no, no, ho capito il senso ma io su questo sono d'accordo su questo sono d'accordo però veramente il se vuoi puoi non ha senso non ha senso ma neanche per noi tutti e noi qui tre dentro cioè, che so chi sul lavoro vuole avere successo vuole fare l'imprenditore cioè, se vuoi puoi è una cosa che dicono, credo quelli di un'altra generazione a me e me l'hanno sempre detto se vuoi puoi se ti impegni puoi vuoi fare l'imprenditore vuoi fare ma negli anni 70 non si pagava l'IRPEF cioè no, 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 no chiaro, chiaro la società la società la società la società la società allora, mettiamola così questo tipo di nuovo atteggiamento nei confronti di quello che fino a una certa generazione è sempre stato preso come un mantra come un obbligo quindi vai, lavora cerca di impegnarti fai il più possibile può derivare anche da tutta questa nuova offerta di lavori apparentemente poco faticosi per esempio i social network che poi in realtà c'è un sacco di lavoro da fare anche sui social network però quello che la gente percepisce è un po' come il calciatore ma il calciatore si guadagna va a tirare due scarpate a un pallone ovviamente non è così ma quello che la gente pensa è io posso tranquillamente sul mio telefonino guadagnare tanto quanto un primario tra le altre cose parlando delle stesse cose di cui parla un primario ma senza aver fatto la scuola di un primario anche su quello c'è tantissimo pregiudizio di sopravvivenza pochissime persone riescono a farlo per dire noi con la filosofia abbiamo certo però l'illusione che si dà è un po' questa però purtroppo è un'illusione quello che si può fare su questo ci sono tanti studi si può lavorare un po' meno cioè in realtà ci sono delle sperimentazioni in altri paesi soprattutto per lavorare meno giorni a settimana lavorare un po' meno il nord Europa ovviamente ma non solo ma non solo anche la Spagna forse lo sta facendo si può lavorare per esempio quattro giorni a settimana in maniera anche più lucida non trascinandosi da un giorno all'altro lavorare un po' meno e avere più tempo libero a disposizione perché noi siamo cioè l'essere umano non ha avuto mai così poco tempo libero a disposizione anche facendo lavori privilegiati che è paradossale è veramente paradossale perché siamo nell'epoca nell'epoca in cui c'è più benessere più possibilità di delegare a cose il nostro lavoro quindi si può fare senza ridurre la produttività per esempio di un'azienda senza ridurre il fatturato è una questione di organizzazione soprattutto una questione proprio di cultura quindi un'azienda si può riorganizzare facendo lavorare un po' meno lavoratori cercando di semplificare alcuni processi che a volte sono inutilmente complicati e quindi garantendo un tempo libero più grande questo ovviamente fa in modo che se io lavoro quattro giorni a settimana in quei quattro giorni non ho tutte le ansie che ho se lavoro cinque giorni o addirittura come spesso succede sette giorni a settimana quindi ci sono delle sperimentazioni per trovare un equilibrio nuovo un equilibrio che però in questo momento è importante perché davvero viviamo un'emergenza di salute mentale a tutti i livelli in tutte le generazioni persone giovanissime sono usciti dei dati su un uso sempre più forte degli psicofarmaci senza prescrizione perché un conto ovviamente se c'è una prescrizione un altro conto no quindi se vogliamo aiutare le persone a stare meglio questo passa anche per capire che cosa quelle persone possono fare poi ci sono delle eccezioni di persone che hanno bisogno di essere sempre io sono una di queste capisco anch'io la cosa degli psicofarmaci è una cosa gravissima come dicevi tu c'è un'emergenza psicofarmaci viene principalmente dall'America ma poi come tutte le cose arriva un po' ovunque però anche questa non è in qualche modo correlata all'abbattimento dell'autorità cioè i ragazzi prendono psicofarmaci senza prescrizione perché loro stessi all'interno di un circolo di social network in cui hanno degli influencer che parlano di salute mentale io mi curo così parlano di psicofarmaci come se fossero caramelle e vanno a contagiare tutta una serie di altri ragazzini il problema è la rete di supporto perché perché non possono è un tema gigante no no lo so però effettivamente lo so però perché l'ascolto maggiore è dato a persone che non ha avuto il percorso di studi di un dottore e per i ragazzi valgono uguale perché hanno più fiducia però questo è un problema enorme questo è un problema enorme e non può essere colpa di chi ha studiato è un problema ma no ma certo io onestamente però non so magari sì non ho i dati alla mano se oggi i ragazzi prendono più psicofarmaci sì sì è una cosa allarmante 20% in più però negli anni 70 un sacco di ragazzi si facevano si facevano d'eroina cioè nel senso non so quanto sia così tanto vero dire che oggi in assoluto c'è più disagio tra i ragazzi secondo me è un po' una narrativa anche nostra questa è che ci facciamo noi perché li vediamo di più perché sui social credo che però la differenza sia la netta divisione intanto un tempo fra l'eroina come cosa sbagliata invece lo psicofarmaco diventa la prima alternativa a una sensazione di disagio a una sensazione molto spesso perché viene fatta passare come una cosa che si può prendere come un'aspirina la narrazione che viene fatta dello psicofarmaco è diventata veramente in Italia c'è ancora lo stigma per cui fare una terapia significa essere deboli torniamo di nuovo al discorso della debolezza cioè non dobbiamo dimostrare mai di essere deboli e avere un figlio che ha dei problemi e dovrebbe andare da uno psicoterapeuta significa aver sbagliato in realtà un genitore che porta un figlio da uno psicoterapeuta è un genitore che si rende conto che quella cosa non può risolverla da solo e che sta aiutando il figlio in realtà a capirsi e a comprendersi quindi il grosso problema secondo me dipende dal fatto che sì forse mancano delle figure autorevoli di riferimento intorno perché il problema non è lo psicofarmaco prescritto il problema è che al disagio non si risponde con l'accompagnamento molto spesso e anche la persona cioè immagina una persona durante l'adolescenza che ovviamente il disagio ce l'ha per forza il disagio ce l'ha per forza probabilmente sì quando deve chiedere aiuto a qualcuno senza sentirsi giudicato o debole chiede aiuto purtroppo a delle figure non quelle insomma che stanno intorno ma quelle che vede sui social network allora ragazzi mi ha fatto un super piacere parlare con voi mi è arrivato tra le altre cose proprio stamattina ma chi me lo fa fare come il lavoro c'è illuso la fine dell'incantesimo è arrivato oggi me lo leggo e se ci avete voglia tornate e andiamo avanti un po' un po' ne abbiamo parlato oggi però se volete poi tornate e affrontiamo anche questo grazie Marco grazie Maura grazie a te grazie a te grazie a te